Onorevole Mattarella, on appunto Sergio Mattarella. Sergio Mattarella è il nuovo Presidente della Repubblica. Scrutinio il quarto, il giudice della Corte Costituzionale ha superato il quorum richiesto, maggioranza semplice, di 505 voti. Uno scorciante applauso del Parlamento in seduta comune ha accolto la sua elezione. Dopo le fumate nere di ieri, la quarta votazione è stata dunque quella decisiva, non solo perché il quorum si è abbassato rispetto alle prime, tra la maggioranza qualificata, 673 voti, ma anche perché il PD, 445 grandi elettori, è stato compatto sul nome del giudice della consulta, Sergio Mattarella. Ai grandi elettori di PD, SEL, Scelta Civica, Autonomie Popolari per l'Italia, GAL e parte degli ex Movimento 5 Stelle, si sono aggiunti stamattina quelli di Area Popolare, NCD e UDC, divisi fino a ieri tra l'ipotesi di scheda bianca e l'appoggio a Mattarella. Anche Giorgio Napolitano, presidente della Repubblica uscente, ha detto di essere assolutamente contento dell'elezione di Mattarella. Nella pioggia di voti per Sergio Mattarella, che ha caratterizzato l'inizio di questo quarto scrutinio per l'elezione del nuovo Capo dello Stato, diversificate le formule con cui i grandi elettori hanno votato per lui. Laura Boldrin legge molte volte solo il suo cognome, spesso il nome e cognome, piuttosto di frequente la sigla del nome, S punto, seguita dal cognome. Talvolta invece è stato votato prima il cognome e poi il nome. Tra l'altro, prima il cognome e poi solo la sigla del nome, qualche voto infine all'onorevole Mattarella. E qualche minuto fa è arrivato anche il tweet di auguri di Renzi. Buon lavoro, presidente Mattarella, viva l'Italia. Renzi saluta il nuovo Capo dello Stato, su cui aveva fortissimamente puntato.